ciao ciao allora come ti chiami alessio piacere lorenzo sono il tuo istruttore piacere mio quello che ti porterà giù sai cosa sei venuto a fare qua si ne sei consapevole a morire no morire no anche che siamo in due quindi dobbiamo andare a casa tutti e due mi fido di te dove vieni modena vabbè qua vicino allora cos'è un regalo di laurea mi sono laureata esattamente un anno fa proprio ieri un anno fa ieri bene quindi oggi quindi oggi si festeggia realizziamo un regalo via ok ci andiamo ad imbragare va bene eccoci qua siamo imbragati pronti andiamo ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bravissima Tutto bene? Tutto benissimo Ok, brava Grazie Grazie a tutti